Kohelet, capitolo 3, verso 4, traduzione a seconda delle radici, con tutte le radici delle parole ebraiche e interpretazione tra taoismo, neidan e kabbalah. Et livkot ve et liskot. Et lisfod ve et lirkod. Allora, come abbiamo già visto, vedete tutti gli altri video nella playlist che c'è qui sotto, nella descrizione e anche alla fine del video, et è una stagione, un momento per, ok, livkot, la radice qui comunque è ein tav, livkot la radice è bet, kaf, hei, la hei cade, è una lettera timida, e significa piangere, compiangere, anche deplorare, ok, deplorare col pianto appunto da pianto. Ve et liskot, et è come prima, liskot la radice sin, chet, kuf, e questo significa, significa ridere, ma anche prendere in giro dei ridere, nella sua forma piel, nella sua forma piel, significa far ridere, diciamo, quasi una commedia, ok, però se in questa fosse una shin, non una sin, quindi questo sarebbe anche shahak, shahak sono nuvole, nuvole del cielo, nuvole del firmamento, diciamo, del paradiso, e il verbo, con la radice shahak, significa polverizzare qualcosa. Poi, et lispod, la radice qui è samech pedalet, e questa radice significa piangere come un orologio funebbre, compiangere, eccetera, La radice Resh Kuf Dalet significa danzare, ok? Danza, danzare, eccetera, insegnare a danzare. Quindi qui si contrappongono in maniera diversa, cioè qui c'è prima la parte di pianto e poi la parte di riso e qui prima la parte di… no, scusate, non si contrappongono, si contrappongono e spartversi di prima, parte di pianto e parte di riso. E cosa importante da vedere, ci sono tutte e due nelle nostre vite, sempre, ok? A cominciare dai versi prima dove c'è vita e morte. E nella parte di qui, questa qua, la risata può essere sia che fa male sia che porta al cielo. Essere contenti è molto importante sia nel taoismo, nella pratica del Neidan, è proprio una pratica che si chiama il sorriso interno, che implica di essere sempre aperti con un sorriso anche ai momenti di pianto, ai momenti di tristezza, quindi non è un opposto in quel caso, ma è una base per tutto quanto. E nella tradizione ebraica è proprio quotata una frase, mitzvah gadola liot besimcha, una grande mitzvah, una grande connessione, un grande dovere, essere sempre sempre in gioia. Liot besimcha tamid poi ha detto, allora è ovvio che è impossibile essere sempre contenti, ma è possibile avere sempre un sorriso anche rispetto alle situazioni che sono dolorose. Il ballo e il movimento del corpo, che spesso si fa anche nelle pratiche di altre tradizioni, anche durante appunto il periodo funebre, spesso è una, semplicemente una espressione di qualunque sia la nostra emozione, non solo la gioia. Grazie e al prossimo versi.